buonasera shalom a tutti bentrovati come vedete nel titolo abbiamo scritto stasera parashah di beshalach e questa lezione la dedichiamo a eli sasson e di sasson rebecca dreidel e lori sasson hanno chiesto di poter dedicare questa lezione a eli che sono già due anni dalla sua ripartita chi l'ha conosciuto sa che uomo speciale che era era amante della torah amante del mitzvot amava il prossimo era sempre disponibile aiutare a far ascoltarlo conosciuto di persona nonostante lui negli ultimi anni già abitava in israele abbiamo fatto una volta un tour in israele di lezioni e lui era venuto e l'ho conosciuto lì e veramente sapere della sua di partita veramente tocca al cuore chissà perché sa di chi sempre sono quelli che soffrono e lui era era una grande persona e sicuramente lì dall'alto lui continua a ascoltare le nostre lezioni lì ovviamente nel mondo delle emet lui sa già tutto la torah la studia direttamente con hashem ma essendo che era del gruppo io penso che ogni giovedì lui mette un occhio su di noi un po di benedizioni lo mette anche su tutti noi perciò ringraziamo rebecca e ringraziamo lori per aver dedicato questa lezione per averci ricordato appunto che era la sua il suo yorzait e mettiamo qualche momento in sedacca sia per la sua anima che per tutto l'am israel per tutto il mondo intero che possa hashem dare a tutti noi soltanto forza coraggio benessere per andare avanti sempre di più e sempre di più beshallach e la parasha dove noi leggiamo che finalmente gli ebrei escono dall'egitto finalmente il mare si apre tutti i miracoli e stasera studieremo veramente una lezione fantastica di un insegnamento veramente che tocca il cuore ma prima di cominciare a parlare della parasha ricordiamo che domenica sera è lunedì è tubi shvat 15 del mese di shvat cioè compleanno il rosh Hashanah degli alberi e come hanno ogni anno ricordiamo che c'è scritto che adam ets assadeu ogni persona assomiglia a un albero per questo una delle motivazioni che noi festeggiamo il capodanno degli alberi perché noi appunto siamo come assomigliamo a un albero non soltanto fisicamente che assomigliamo un albero ma anche nell'insegnamento intrinseco di quello delle varie componenti dell'albero e come ogni anno ripetiamo queste componenti noi sappiamo che abbiamo le radici abbiamo il tronco e poi i rami e i frutti cosa rappresentano le radici le radici sono nascoste sotto terra non si vedono però in realtà le radici sono la parte che tiene l'albero forte se le radici sono forti anche se il tronco magari più scarno ma le radici sono forti nessun vento potrà scaraventare o potrà sradicare quest'albero perciò la cosa più importante di una persona è la sua radice vuol dire avere fede le radici così come sono nascoste le radici sotto terra e non si vedono così anche la fede di una persona in dio non è una cosa che tu puoi vedere su di te è una cosa che è nascosta dentro la persona eppure appunto la fede di una persona può essere la cosa che ci tiene forti e saldi durante i momenti difficoltà e ricordiamoci sempre che quando c'è difficoltà Hashem in realtà ci sta spronando per aprirci un cancello un portone ancora più grande perciò mai rimanere mai essere perdere la speranza i momenti difficoltà sono lì soltanto per rafforzarci poi c'è il tronco il tronco cos'è è la parte diciamo anche bella a volte dell'albero quando è maestoso è grande e questo rappresenta le mitzvot è una cosa che si vede il tronco è una cosa che si vede le mitzvot si vedono una persona che fa le mitzvot si vede quando uno le fa perciò è la parte diciamo esteriore la parte bella dell'albero perciò un ebreo una persona un uomo che fa le mitzvot che fa la parola di Hashem fa vedere la sua bellezza interiore che esce appunto fuori anche in azioni pratiche perché ricordiamoci che le mitzvot non è soltanto un sentimento ma le mitzvot sono azioni pratiche che noi facciamo o verso il prossimo o verso Dio e poi parliamo dei frutti un albero ha di solito dei frutti non sempre ma un albero deve avere dei frutti e questo rappresenta i figli di una persona ma non soltanto i figli fisiologici ma anche le persone che una persona può avvicinare a Dio i suoi alunni le persone a cui lui insegna che può essere una maestra può essere anche una semplice persona che insegna le persone invita le persone a casa sua shabbat fa da esperienza fa sentire esperienza della Torah e del mitzvot perciò ogni persona che noi riusciamo a influenzare diventa un nostro figlio perciò i frutti rappresentano che un frutto rappresenta che l'albero continua a vivere grazie ai frutti che poi creano altri semi altri frutti altri alberi perciò la continuità dell'educazione ebraica e della Torah in generale è di insegnare al prossimo Torah di fare in modo che appunto la Torah vada sempre avanti e questo comuniano ripetiamo è l'insegnamento che Tu Bishvat può dare a ognuno di noi poi la Parashah appunto che parla della dell'apertura del mare ci fa capire come questa settimana è il mare si apre per tutti noi vi ricordate come un anno ripetiamo che questo poi entriamo nel shulvere proprio ogni anno raccontiamo quasi ogni anno raccontiamo che quando gli ebrei arrivano davanti al mare e lì c'è il mar rosso davanti a loro e nel frattempo tutti gli egiziani col faraone carri e tutte le armi vengono per riportare gli ebrei indietro in quel momento gli ebrei perdono non sanno più dove andare perché davanti c'è l'oceano dietro ci sono gli egiziani che stanno arrivando e non hanno più scampo e in un attimo la vittoria in un attimo tutta questa libertà svanisce come un sogno allora in quel momento viene raccontato che si creano quattro diciamo gruppi di come reagire a questa situazione c'era un gruppo che diceva meglio morire buttiamoci in mare soffochiamo anneghiamo il mare ma piuttosto non torniamo in egitto poi un altro gruppo ha detto proviamo a fare la guerra magari vinceremo magari no ma almeno moriremo combattendo eventualmente un altro gruppo diceva meglio vivere torniamo indietro arrendiamoci l'importante è stare in vita e un quarto gruppo cominciava a pregare a dio dio salvaci c'era chi pregava c'era chi si arrendeva c'era chi voleva suicidarsi tutte queste quattro opzioni vengono bocciate da dio il quale dice a mosè non è adesso il momento né di pregare né di fare la guerra né di arrendersi né di niente da ber el bene israel veisau dice dio a mosè parla dai ordine agli ebrei di viaggiare di andare avanti però c'è il mare davanti cielo c'è no tu non ti preoccupare e così succede gli ebrei entrano in acqua sappiamo la storia di nashon ben amminadav il primo che si butta in acqua e lui cammina cammina fino a quando stava per annegare in quel momento il mare si apre e tutto il popolo ebraico passa dentro e vengono salvati da qua impariamo una cosa fantastica nella vita che si è importante pregare si è importante combattere tutte le quattro opzioni meno quella di suicidarsi erano potevano essere opzioni giuste in qualche momento ma qui dio dice nessuno di queste dovete andare avanti nella vita a volte o maggior parte delle volte bisogna capire che non bisogna arrendersi bisogna andare avanti anche se davanti abbiamo un oceano o abbiamo l'everest abbiamo qualcosa che ci sembra che è impossibile da sorpassare la torace insegna tu non ti preoccupare tu fai il tuo e dio farà il suo ricordati questo mare chi te l'ha messo davanti tra messo dio dio sicuramente non ha fatto miracoli per un anno le piaghe e tutto quanto per portarti a morire davanti al mare perciò capisci che è il momento di andare avanti dio ti ha portato fino a qua e continuerà a fare miracoli per te così anche noi nella nostra vita ricordiamoci sempre le sofferenze le difficoltà sono tutte delle cose che ci devono spronare accendere andare solo avanti andare indietro non è un'opzione solo andare avanti con tanta fede in dio con tanto coraggio in se stessi stima in propria stima interiore e dire ce la farò e andrà avanti ed è questo il modo come noi potremo anche nella nostra vita moderna aprire il mare e andare appunto verso la meta finale ok cominciamo adesso a entrare nei meandri della parashah prenderò il solito libro di rabbechor in italiano chi vuole può guardare a casa capitolo 14 siamo esodo capitolo 14 cominceremo dal passo 15 e succede così hashem disse a mosè perché mi volgi il tuo grido ovvero la preghiera di ai figli di israele di mettersi in cammino quanto a te alza il bastone stendi il braccio sul mare e dividelo i figli di israele entreranno nel mare nell'asciutto ovviamente in realtà loro prima sono entrati poi il miracolo è successo quanto a me dice dio mi appresto a rinforzare il cuore degli egizi che quindi verranno dietro a loro e mi glorirò a spese del faraone di tutto il suo esercito dei suoi cocchi e dei suoi cavalieri quando mi glorirò a spese del faraone dei suoi cocchi e dei suoi cavalieri gli egizi riconosceranno che io sono hashem e allora in quel momento l'angelo di dio che procedeva in testa all'accampamento di israele si spostò e andò a collocarsi dietro di essi per difendere dagli egiziani la colonna di nume si spostò da in testa a essi collocandosi dietro appunto di loro per fare una barriera tra il popolo ebraico e gli egizi che stavano arrivando adesso qua vediamo da questi passi che quattro volte se avete fatto caso scrive che gli ebrei entrano nel mare e racconta tutta i vari dettagli adesso cambiamo un attimo soggetto e andiamo un passo indietro andiamo nel capitolo 14 perciò qua racconta di come gli ebrei miracolosamente entrano al mare e poi vanno avanti andiamo un passo indietro e poi capiremo di perché leggeremo anche questo passo se andiamo a vedere il capitolo 14 le prime tre fasi e dice così hashem parlò a mosè dicendo parla ai figli di israele che tornino indietro e si accampino dinanzi a piachirot che era un posto tra migdol e il mare dinanzi a balsefon e di fronte a esso accampatevi presso il mare perciò stavano andando dice tornate indietro e accampatevi davanti al mare il faraone in quel momento che aveva le spie che andavano con gli ebrei e lui sapeva ogni cosa ogni passo che gli ebrei facevano dirà ai figli di israele dice essi sono intrappolati il deserto li ha serrati prima ancora che il faraone comincia andare con tutto l'esercito vede che gli ebrei si sono fermati lì e si sono accampati e non sanno più dove girarsi e allora cosa dice il faraone dice nevuchim sono intrappolati non sanno più dove andare e allora quando il faraone vede che sono intrappolati decide di andare a con tutti a riprendersi indietro gli ebrei ma c'è qua una frase che volevo farvi notare e ha detto il faraone ai figli di israele quali figli di israele erano tutti usciti questa è la chiave dell'argomento di stasera il faraone a quale figli di israele sta parlando rashi dice un commento rashi è sempre quello che dice la parte semplice la traduzione semplice o la spiegazione è semplice rashi qua dice che lui sta parlando a proposito dei figli di israele non ai figli di israele ma lui vuole dire che dice sta parlando dei figli di israele ok perciò rashi da sempre la risposta semplice ma c'è un'altra spiegazione che da qua vedremo che stasera abbiamo una lezione veramente da brividi che dice questo è il targumi nata menusiel è uno dei tanti commentatori che dice che quando lui sta parlando live ne israel sta parlando di chi a chi a due ebrei che erano rimasti in egitto allora le dieci piaghe sono tutte finite il faraone ha detto andate via basta nel posto più stiamo morendo tutti e li lascia andare ecco se qua dopo che gli ebrei sono usciti e tutti erano davanti al mare chi sono questi ebrei con il quale il faraone sia dal sta dialogando e ripeto il faraone disse ai figli di israele che gli ebrei sono intrappolati con chi sta parlando allora qua la torà ci viene raccontato in nata menusiel ci racconta che lui sta parlando a due persone datan e aviram datan e aviram chi erano vi ricordate quando due parashot fa la torà racconta che mosè cresce e va fuori a vedere i suoi fratelli ebrei in che situazione sono allora lui va fuori e vede che c'era un egiziano che stava picchiando a morte un ebreo e mosè risalva la vita uccidendo l'egiziano poi la torà racconta il secondo giorno mosè di nuovo esce e stavolta vede due ebrei che si stanno picchiando uno l'altro e mosè dice a quello che stava picchiando rashah perché stai picchiando un tuo fratello ebreo e allora quello risponde ah vuoi uccidere noi così come ieri hai ucciso l'egiziano eppure la torà racconta che ieri lui si è guardato in giro ha visto che non c'era nessuno e poi ha ucciso l'egiziano e vediamo che in quel momento mosè scopre di essere in pericolo perché qualcuno ha scoperto quello che ha fatto ecco chi erano questi due che stavano si stavano picchiando il secondo giorno i due fratelli ebrei erano appunto questi qua datan e aviram ecco datan e aviram erano due reshaim due malvagi due persone che non credevano in dio che non credevano in mosè che tutta la storia loro sono sempre andati contro mosè da qui dalla prima volta che loro appunto sono andati a fare la spia figuratevi al faraone dicendo mosè ha ucciso l'egiziano ragion per cui mosè è dovuto scappare per tanti anni eccetera eccetera queste due persone ebree erano due malvagi di prima categoria allora cerchiamo di capire un attimo cosa hanno fatto loro allora uno è la prima storia che abbiamo letto era questa che loro litigavano un'altra storia di negativa che la torà racconta di questi due e quando arrivata la manna nella nostra parasha proprio quando scendeva la manna nel deserto per 40 anni la regola era che non bisogna tenere la manna fino al giorno dopo perché gli ebrei dovevano dimostrare fede in dio che ogni giorno la manna sarebbe scesa per ogni famiglia per una singola persona cioè chi manteneva la manna da un giorno all'altro dimostrava che non aveva fede in dio allora mosè dice che la parola di dio è di non tenere la manna a mosè dice di non tenere la manna vuole ucciderci qui nel deserto di teniamo la manna dimostriamo che lui dice bugie cosa fanno da questi due di nuovo datane avirà tengono vogliono tenere la manna per dimostrare che in realtà si può per dimostrare che mosè è un bugiardo che che fa le regole di per sé e così via perciò di nuovo in pubblico stavolta loro vanno contro la parola di mosè una volta che escono dal mar rosso e vanno nel deserto per anni 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 ogni volta che c'era una lamentela un litigio manca l'acqua manca questo manca ogni volta che c'era una lamentela al proprio ebraico chi erano i due fautori datan e aviram loro erano quelli che ogni volta dicevano torniamo in egitto perché mosè ci ha portati fuori per morire qua mancavano forse tombe in egitto per portarci a morire qui ogni volta che c'era un motivo di dare fastidio a mosè loro due erano sempre quelli che cominciavano le lamentele contro mosè ma poi non è finita ancora più avanti più avanti nella storia vi ricordate la storia del cugino di mosè cora cora che voleva che si lamentava del motivo che mosè era leader e aron era sommo sacerdote e lui che era il cugino non aveva ricevuto nessun onore allora ha fatto tutta una disputa contro chi era di nuovo a base di questa disputa chi era dentro che aizzava tutto il tempo cora contro mosè aron di nuovo i due datan e aviram e quando mosè cerca di farli ragionare e e loro dicono no mosè li chiama a chiamare chiamateli che li spiego che non sono io che dio che ha deciso loro dicono no noi non andiamo da mosè non vogliamo parlare con una persona che ci ha promesso una terra di latte miele invece cosa c'è qua siamo soltanto nel deserto non andiamo da lui perciò loro erano sempre i due promotori di dispute tutta in tutta la storia di mosè erano dei ribelli in tutte le situazioni ecco perché questi due qua datan e aviram erano in egitto e non sono usciti perché non credevano in mosè perciò qua il faraone chi ha ha due ebrei che stanno con lui che si sono schierati dalla parte del nemico che stavano con lui gli ebrei sono usciti non vogliamo uscire non crediamo in niente e mosè li porterà fuori e li ucciderà da qualche parte perciò loro non hanno mai creduto in niente adesso abbiamo due domande molto logiche se questi due ebrei datan e aviram non sono usciti con tutti gli altri ebrei ma sono rimasti in egitto domanda numero uno abbiamo detto poco fa che loro più avanti in egitto nel deserto davano fastidio a mosè con cora eccetera allora se loro erano rimasti in egitto come sono finiti poi in deserto se non sono usciti con gli altri ebrei domanda numero uno domanda numero due noi sappiamo che quando c'era la nona piaga delle tenebre no tre giorni di buio pesto in quei tre giorni viene raccontato che tutti quegli ebrei che non credevano in mosè che non volevano uscire egitto che non credevano nella redenzione o non volevano partecipare in quei giorni di buio tutti questi ebrei sono morti e soltanto il 5 per cento il 20 per cento degli ebrei sono usciti la maggior parte sono morti con la piaga del buio perché è buio che nessuno che gli egiziani non vedono che anche loro sono morti ma chi non voleva essere salvato redento lui moriva in egitto allora un'altra domanda se questi adatane avirà non volevano uscire non credevano erano proprio quelli là perché loro non sono morti in questi tre giorni di buio però ci abbiamo qua due domande molto forti se loro sono rimasti con nemico e non volevano uscire non credevano in mosè perché sono rimasti vivi e come hanno fatto arrivare poi nel deserto se loro non erano con gli ebrei nel momento del dell'apertura del mar rosso noi abbiamo raccontato di loro quattro eventi quattro storie che fa vedere di come loro erano persone malvagie eccetera però c'è una quinta storia c'è una quinta storia che parla di loro loro questi adatane avirà erano quelli che vengono chiamati i shotrei bene israel i poliziotti come i capò che erano durante la seconda guerra mondiale i capò erano quelli ebrei che dovevano controllare i fratelli ebrei e era un lavoro veramente indegno quello che gli hanno fatto fare questi adatane avirà erano i capò dell'egitto erano i shotrei i poliziotti che stavano sopra gli ebrei per far sì che lavorassero che andassero tutto in tempo erano schiavi no? perciò il faraone aveva messo degli ebrei a custodire altri ebrei proprio come la seconda guerra mondiale cosa succede? apriamo di nuovo la parasha stavolta andiamo due parashot indietro nella prima parasha che è Shemot e vediamo cosa fanno questi due datan e aviram andiamo nel capitolo 4 passo 15 cosa succede? quando Mosè viene la prima volta a dire al faraone mi manda Dio salva il mio popolo eccetera il farone dice io non conosco né voi né il vostro Dio smettetela lasciate lavorare cosa fa? lui in quel momento peggiora il decreto sugli ebrei prima dava loro la paglia il fieno per costruire i mattoni ha detto ah voi avete voglia di andare in vacanza di uscire in libertà benissimo renderò la vostra schiavitù ancora più pesante non vi daremo più né paglia né fieno voi dovrete continuare a mantenere lo stesso numero di produzione di mattone giornaliero e in più dovete voi trovarvi la paglia il fieno non ve lo diamo perciò ha raddoppiato diciamo Mosè in questo modo la difficoltà della schiavitù sentite qui la Torah cosa dice le guardie dei figli di Israele andarono a gridare al faraone chi erano le guardie? questi due Datan e Aviram i poliziotti no? le guardie quando sentono che il decreto è peggiorato in un modo così drastico questi due cattivoni questi due che tutto il tempo davano fastidio a Mosè cosa fanno? vanno dal faraone e gridano perché fai questo ai tuoi schiavi faraone? non viene data la paglia ai tuoi schiavi? e quanto ai muattoni ci viene detto fabbricateli? ed ecco che i tuoi servi vengono percorsi e il tuo popolo si macchia di una colpa perciò loro in questo momento hanno tirano fuori tutta la loro rabbia contro il faraone e dicono ma cosa state facendo? state schiavizzando un popolo state chiedendo l'impossibile il faraone cosa risponde? indolenti siete indolenti siete dei fanulloni dei pigroni indolenti per questo dite andiamo a offrire sacrifici a Dio vuol dire andiamo in libertà e ora andate a lavorare non vi verrà data la paglia e fornirete la stessa quantità di mattoni perciò il faraone rimane sul suo decreto ascoltate bene le guardie dei figli di Israele perciò questi due videro questi ultimi nel loro male da quando era stato detto non riducete la quota giornaliera di mattoni quando loro ci rimangono male e si arrabbiano del fatto che il faraone non vuole cambiare idea dove sono adesso? sono al cospetto del faraone finita questa scena questa situazione qua i due da Tania a Viram devono andare via perché non sono riusciti nel loro intento perciò fanno per uscire dal palazzo reale quando escono chi incontrano? la Torah dice il passuk numero 20 si imbatterono in Moshe e Aaron che venivano al loro incontro uscendo dal cospetto del faraone Mosè stava entrando dal faraone e loro stavano uscendo dal faraone e si incontrano dissero loro da Tania a Viram dicono a chi a Mosè e Aaron che Dio vi guardi e vi giudichi poiché ci avete reso odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi sudditi dando loro in mano una spada per ucciderci cosa fa queste due persone che abbiamo parlato così abbiamo dimostrato dalla Torah un loro comportamento negativo in ogni situazione due persone cattive che non credevano né in Dio né in Mosè né in niente che ogni situazione era buona per andare contro la parola di Mosè e di Dio vedete come reagiscono quando vedono che i loro fratelli sono in pericolo che la situazione è aggravata vanno a urlare prima con il faraone che coraggio hai tu di andare a parlare con il faraone in questo modo urlare c'è scritto urlarono al faraone con che coraggio missione fallita torniamo fuori torniamo fuori che incontriamo Mosè e Aaron ah è per colpa vostra che Dio vi giudichi per quello che avete fatto per colpa vostra che avete voluto venire qua a fare i grandiosi e a dire al faraone di lasciarci stare guarda cosa avete fatto avete peggiorato la schiavitù per colpa vostra adesso i vostri gli ebrei soffriranno di più verranno picchiati di più dovranno lavorare di più che Dio vi giudichi per quello che avete fatto e in quel momento Mosè alza gli occhi a Dio e dice l'ama reota le ama se oh Dio perché hai fatto del male a questo popolo mi hai mandato qua a fare del bene e io in questo momento sono causa di disagio maggiore per gli ebrei e perciò dice Mosè perché Dio fai soffrire questo popolo wow una storia movimentata che vediamo che queste persone negative in realtà nel momento del bisogno sono capaci di alzare la voce sia contro farone che contro Mosè e arone per chi per salvare i loro fratelli schiavi da Tame Aviram queste due persone qua c'è scritto non ho letto hanno ricevuto botte dal faraone o comunque dai suoi soldati o chi era ma nonostante tutto ciò vediamo che erano delle shahim non credevano a Mosè non credevano in Dio nella redenzione niente ma loro non sono morti nella notte nelle tre notti di buio tre giorni di buio perché non sono morti se loro non volevano uscire perché non sono morti con tutti gli altri perché erano sensibili al destino dei loro fratelli avevano un cuore davano fastidio a Mosè da mattina a sera è vero non credevano in Dio va bene però si nascondeva in queste persone così esteriormente cattive si nascondeva un cuore di panna come si suol dire un cuore che batte una persona che va a urlare contro tutti perché i loro fratelli ebrei stavano soffrendo di copo fa vedere quanta umanità c'era all'interno di queste due persone per questo motivo Dio dice io li salvo non li faccio morire perché hanno dimostrato grande umanità anche se loro non credono in me quando il faraone va e rincorre gli ebrei per portarli indietro questi due qua Datane Aviram vanno con il faraone che era il nemico ricordiamoci il farone era il nemico loro vanno con il nemico e quando gli egizi la Torah dice che il mare si è aperto era tutto asciutto gli egiziani entrano nel mare che era asciutto perché stavano ricorrendo gli ebrei e in quel momento qua c'è scritto che il mare si è chiuso sugli egizi e tutti sono morti parentesi perché tutto questo loro tutto questo fare rincorre e di nuovo cambiare idea di portarli indietro tutto questo era la motivazione perché loro dovevano gli egizi dovevano morire annegati dell'acqua perché loro dovevano scontare la pena che tutti i bambini ebrei che nascevano venivano buttati nel Nilo uccisi nel Nilo allora tu hai ucciso bambini innocenti buttandoli nel Nilo tu dovrai morire nell'acqua perché li ha fatti uscire fuori tutti quanti per farli morire per scontare la pena che tu hai fatto prima parentesi adesso cosa succede quando loro entrano il mare si chiude sopra di loro e loro sono morti gli egiziani Datan e Aviram che erano con il faraone abbiamo detto loro non sono morti neanche quando l'acqua si è chiusa sugli egiziani erano insieme agli egiziani l'acqua si è chiusa gli egiziani sono morti ma questi due ebrei sono rimasti vivi e non soltanto non soltanto Dio ha fatto per loro una seconda apertura del mare non sto qua a leggervi tutti i passaggi tutte le parole della Torah ma dalla Torah viene fuori che c'è stata non è scritto in modo esplicito c'è stata una seconda apertura del mar rosso per questi due ebrei che loro potessero salvarsi e andare dall'altra parte ma come? loro non volevano andare erano cattive persone brutte persone reshaim e andavano con nemico addirittura eppure Dio ha detto voi non potete fare questa fine fa di nuovo per loro gli ebrei erano già usciti la prima apertura del mare era già stata gli ebrei erano già usciti ovvio se il mare si chiude e uccide soltanto gli egiziani vuol dire che gli ebrei erano già fuori perciò mentre li rincorrevano loro erano già usciti l'ultimo ebreo era già uscito dal mare e tutti gli egiziani erano totalmente nel mare e il mare si chiude su di loro ovviamente ma si chiude su di loro ma si riapre di nuovo c'è una seconda apertura per questi due ebrei Datani e Aviram nonostante che erano quello che erano però visto che loro sono andati dal farone a lamentarsi e il farone li ha fatti picchiare li ha fatti bastonare a causa che loro cercavano di difendere i fratelli ebrei allora dice Dio loro potevano stare zitti potevano dire noi siamo salvi noi siamo ufficialmente lavoriamo per il farone loro potevano dire Datani e Aviram stiamo zitti ci salviamo la pelle che loro facciano quello che vogliono noi almeno siamo salvi no non hanno fatto niente di tutto ciò non riuscivano a stare in silenzio quando i loro fratelli soffrivano e morivano perciò hanno messo in repentaglio la loro vita il farone poteva ucciderli ha detto noi non ci interessa noi andiamo a combattere per i nostri fratelli e hanno preso tante botte però appunto potevano evitare di lamentarsi con il farone e questa cosa qua la loro umanità e loro prendere botte per il prossimo quando potevano stare zitti ha fatto meritare loro che loro venissero salvati non soltanto un salvataggio su misura per loro un mare rosso si apre di nuovo solo per due un vestito proprio dal sarto perché si sono sacrificati per i loro fratelli perché dopo tutto avevano un cuore che batteva per il prossimo e per questo la Torah ci racconta che loro hanno meritato la salvezza anche se non credevano eccetera eccetera adesso mettiamo da parte un attimo questa storia apriamo il Talmud il Talmud nel trattato di Sukkah racconta una storia inverosimile una storia da brividi ascoltatemi bene il Talmud relaziona la storia di una ragazza ebrea il Talmud che questa ragazza ebrea si chiama Miriam Bat Bilga Bilga era la mamma Miriam figlia di Bilga questa ragazza ebrea aveva lasciato l'ebraismo si era allontanata da tutto quello che è l'ebraismo e lei si era sposata con un generale greco siamo nel periodo di Hanukkah quando i greci dominavano Gerusalemme e gli ebrei erano sotto il dominio greco questa ragazza ebrea si era talmente allontanata dall'ebraismo che lei si era sposata con un generale greco questa ragazza qua noi sappiamo che i greci avevano gli ebrei vi ricordate per tre anni non potevano entrare nel santuario la storia della guerra che poi dopo loro entrano a cercare l'olio tre anni è durata e in quei tre anni nessuno degli ebrei poteva entrare nel santuario in cambio chi entrava nel santuario ogni giorno i greci i greci entrava nel santuario profanavano il santuario se vi ricordate abbiamo spiegato una volta che loro sacrificavano dei maiali sull'altare maiale nel santuario nell'altare cose di tutto hanno fatto entravano uscivano spadroneggiavano questa ragazza ebrea Miriam sposata con un generale anche lei entrava nel santuario figuriamoci una donna che entrava lì dove lei non poteva entrare nel santuario dove c'era il misbeach l'altare ma sentite cosa fa non soltanto che entra non soltanto che è sposata con un uomo non ebreo è sposata con un uomo non ebreo nemico del popolo ebraico che questo uomo ebreo ha conquistato il santuario di tutto non c'era cosa peggiori quello che lei poteva fare lei un giorno ascoltate entra nel santuario tira fuori la sua scarpa toglie la scarpa e comincia a picchiare sul misbeach sull'altare l'altare dove si bruciavano i sacrifici la ragazza ebrea sposata con il generale picchia con la sua scarpa sull'altare il Talmud lo scrive e dice lucus lucus fino a quando prendi i soldi degli ebrei e non sei lì per loro nel momento del bisogno lucus in greco vuol dire fuck lupo lupo lei parla in greco si rivolge a Dio e lo chiama lupo lei è arrabbiata con Dio lupo lupo fino a quando tu prendi i soldi degli ebrei cosa sono i soldi degli ebrei? i soldi che tutti mettevano per i sacrifici lei sta picchiando sull'altare dove i sacrifici venivano consumati bruciati lei va lì sul luogo del sacrificio e picchia con la sua scarpa e urla a Dio sei un lupo perché sei un lupo? perché sei bravo a chiedere i sacrifici agli ebrei un sacrificio la mattina un sacrificio la sera e ogni giorno tanti sacrifici questo sei bravo a mangiare i loro soldi vuol dire a mangiare i loro sacrifici ma perché non sei lì a difenderli quando loro hanno bisogno? sei bravo a prendere ma non sei bravo a dare sei un lupo un lupo che mangia gli animali che mangia i sacrifici sei uguale a un lupo sei solo prendere divorare e non dai niente in cambio potete immaginare la gravità di questa storia una ragazza totalmente alienata totalmente distaccata dalla Torah e le Mitzvot che appunto sposa un nemico e nonostante ciò lei cosa fa? urla a Dio si arrabbia con Dio cercate di capire tra le righe lei cosa sta urlando a Dio? va bene sta mancando di rispetto a Dio va bene ma lei dice perché non salvi i miei fratelli ebrei? sei bravo a prendere sacrifici ma non sai difenderli? perché permetti tutto questo? perché permetti che i greci stanno dominando il santuario e stanno uccidendo spiritualmente gli ebrei? perché fai questo al tuo popolo? chiedi ma non dai questa storia del Talmud una sera durante un Farbrengel un un momento chassidico tra il Rebbe e i chassidin dove il Rebbe parla insegna il Rebbe racconta questa storia del Talmud e mentre lo racconta il Rebbe comincia a piangere e il Rebbe dice al pubblico dopo che racconta questa storia così inverosimile e dice guardate cos'è la forza di una ragazza ebrea che anche se ha fatto quello che ha fatto sposa il nemico entra dove non deve andare picchia il santuario ma guardate questa ragazza ebrea è lì che urla ci lamenta con Dio perché non salvi i tuoi figli ebrei ed è proprio qui che vedi quanto in realtà questa ragazza Miriam quanto in realtà lei è spirituale quanto in realtà lei è ancora connessa con Dio altrimenti se non crede in Dio non vai a urlare a Dio perché non difendi i tuoi figli ebrei qui tu vedi la profondità di questa ragazza l'amore per il prossimo di questa ragazza è vero le ha fatte tutte è vero ma quando i suoi fratelli soffrono lei va e picchia e sgrida Dio per quanto sia sbagliato il Rebbe dice una cosa inverosimile guarda questa ragazza ebrea che forza che ha che è pronta a urlare a Dio per salvare i suoi fratelli dopo un paio di settimane che il Rebbe ha raccontato questa storia è aggiunto guardate la forza di una ragazza ebrea eccetera eccetera il Rebbe due settimane di nuovo al Farbrengen racconta ho ricevuto una marea di lettere da persone che si sono lamentate con me di nuovo il Rebbe sta raccontando ai suoi chassidim che tante persone gli hanno scritto delle lettere lamentandosi con il Rebbe dicendo Rebbe con tutte le storie che puoi trovare nel Talmud vai a raccontare proprio una storia così sporca scusate la parola una storia così inverosimile di una ragazza che sposa un ufficiale che entra e fa non hai altro da raccontare e non soltanto in più la giustifichi pure dicendo guardate questa ragazza ebrea ma Rebbe cosa stai dicendo questo è quello che tanti studiosi non di Chabad altri studiosi di altri hanno scritto al Rebbe lamentandosi come fai a difendere una ragazza in questo modo e in questa situazione che il Rebbe sta raccontando delle lettere ricevute ascoltate seguito il filologico il Rebbe comincia a raccontare un'altra storia il Balatania il fondatore del chassidismo Chabad l'autore del Tania centinaia di anni addietro il Rebbe sta raccontando una volta nel periodo del Balatania un ebreo che era attaccato da un dibuc dibuc in italiano si dice era posseduto mi sembra che sia così in italiano molte volte succede che una persona viene attaccato da un'anima che quello che posseduto si dice no? quelli che nei film vediamo che vanno dall'esorcista eccetera c'era questo ebreo che aveva un dibuc stava malissimo perché dibuc vuol dire quando un'anima di un morto va e si appiccica a una persona entra in una persona sono cose che succedono non succede più tanto succedevano ma è una cosa che esiste perciò questa persona era posseduta da questa anima che si era impadronita era entrato dentro di lui e lui soffriva tantissimo perché aveva questa anima che non gli dava pace questo ebreo va dal rebbe del Tania no? il Balatania va per cercare salvezza perché aiuta mi sto impazzendo questa anima non mi dà vita ascoltate bene il Balatania dice a questo ebreo dimmi ma tu sai perché il profeta Zecharia Zaccaria è stato ucciso? seguiti il filo questo ebreo posseduto va a chiedere aiuto al Balatania il quale Balatania chiede a lui cosa c'entra? dice ma tu lo sai perché il profeta Zaccaria è stato ucciso? chi era questo profeta Zaccaria questo profeta Zaccaria Naviz Zecharia lui era stato ucciso sentite bene il giorno di Yom Kippur dove nel Beta Migdash nel santuario perché è stato ucciso? perché lui era un profeta e lui stava predicendo la distruzione del primo santuario di quel santuario era un profeta e lui sta dicendo sappiate che ho una profezia da Dio che il santuario sta per essere distrutto verrà distrutto questi ebrei chi è nel santuario ebrei mica altri nel giorno di Kippur uccidono il profeta Zaccaria storia da brividi anche questa una storia da brividi il giorno di Kippur dove noi chiediamo perdono per le minime cose un profeta viene ucciso c'è cosa più grave di uccidere un'altra persona di Kippur nel santuario non c'è cosa più grave di questa perché questa persona l'ha ucciso sentite il rebbe il balatania sta dicendo una cosa dice sai perché l'hanno ucciso ma non perché erano cattivi non perché erano assassini viene che ti racconto dietro le quinte la motivazione perché lui è stato ucciso ascoltate bene il balatania dice la persona che ha ucciso questo profeta in realtà lui si è autosacrificato perché non voleva che lui emettesse questa profezia il profeta ha cominciato a parlare e a spiegare lui questa persona che l'ha ucciso ha subito capito che lui stava dicendo una profezia contro vuol dire che parlava della distruzione del santuario e lui l'ha ucciso perché perché voleva evitare che lui emettesse la sua profezia non voleva che il santuario venisse distrutto non voleva che gli ebrei morissero e venissero mandati come è successo poi ebrei sono morti mandati in esilio quando lui ha capito dove mirava questo profeta dove stava andando a finire ha voluto ucciderlo perché lui non dica la profezia perché una volta che un profeta dice una profezia diventa più difficile cancellarla una profezia positiva non si cancella mai una profezia negativa si può cancellare ma è difficile lui voleva evitare che lui pronunciasse la profezia lo uccido lui sapeva che andava incontro a quello che andava incontro però lui si è sacrificato io sono pronto a morire spiritualmente verrò condannato quello che sia ma io voglio che lui non dica questa cosa qua voglio salvare il santuario voglio che gli ebrei vengono salvati questo non lo scrive il Talmud questo lo dice l'autore del Tania migliaia di anni dopo che è successo lui cosa fa dà un'interpretazione tutta sua per dire che lui anche se ha fatto una cosa brutta e ha sbagliato ma in fondo in fondo perché l'ha fatto voleva salvare il santuario voleva salvare gli ebrei e dice lui si è sacrificato Messirut Nefesh morire sacrificandosi è il livello più alto della morte vuol dire non c'è modo migliore di morire sacrificandosi per Dio il Balatania dice lui ha fatto questo è morto nel modo più galante nel modo più elevato che si poteva morire tutto il mondo quando questa storia è di 2500 anni fa tutto il mondo quando leggi questa storia del Talmud cosa dice ma guarda un po' che assassino che delinquente non ha rispetto né del giorno né del posto né del prossimo chi pur santuario uccide ovvio no? la prima cosa che ci viene in mente è questa ma guardate il Balatania come lui traduce questa storia dice no lui l'ha fatto è un saddico è morto per Dio è morto per il popolo è morto per salvare il santuario si è sacrificato il Balatania dice sono 2500 anni che questa anima che ha ucciso il profeta Zaccaria non ha riposo non poteva entrare nel Gan Eden nel giardino dell'Eden dove tutte le anime eccelse vanno perché ha fatto alla fin fine ha ucciso una persona non poteva entrare in all'inferno perché dopo tutto ha fatto un gesto buono ha voluto salvare faccio non poteva entrare né lì né lì quest'anima non sapendo dove andare girovagava per migliaia di anni 2500 anni girovagava e chissà quanti altri corpi prima di lui lui si è appiccicato e ha fatto impazzire altre persone fino a che questo ebreo che ce l'ha addosso va dal l'autore del Tania dal primo Rebbe di Lubavitch il quale dice no lui era un tzaddik ha sbagliato ma l'intento era buono perciò anziché condannarlo lui gli sta dando una redenzione perché lui ha emesso una sentenza positiva per la prima volta in 2500 anni su questa persona qua gli ha portato la redenzione torniamo al Rebbe a New York il Rebbe mentre racconta questa storia del Balatania e dice non capisco come mai tutte queste persone che nelle ultime due settimane mi hanno mandato lettere di lamentele di perché io parlo bene di Miriam perché dico che guardate che è ragazza di valore eccetera lui dice non capisco perché a queste persone qua a questi grandi studiosi della Torah li dispiace così tanto se io Rebbe ho voluto fare la stessa cosa che ha fatto il Balatania io anche ho voluto emettere una sentenza positiva su Miriam Bad Bilga in modo che anche lei possa trovare pace anche questa ragazza qua ha sbagliato ha fatto di tutto anche lei ma dentro il suo cuore cosa batteva? batteva il cuore di una ragazza ebrea dispiaciuta per i suoi fratelli ebrei vuol dire che lei era alienata soltanto esteriormente sposata ha fatto ma era soltanto dentro era forse più ebrea di tanti ebrei era forse più connessa con Dio di tanti altri ebrei che veramente sono connessi con Dio perché lei va a urlare con Dio vuol dire che Dio esiste vuol dire che io ci credo in te perché fai questo ai miei fratelli ai tuoi figli ed è questo e questa è esattamente la storia di Datan e Aviram questi due personaggi che abbiamo raccontato tante brutte cose su di loro è vero erano brutte persone hanno fatto brutte cose ma guardiamo dentro chi erano? erano persone che hanno urlato con il faraone hanno urlato con Mosè Aronne perché fate male agli ebrei erano persone che avevano un cuore hanno sbagliato ma dentro erano così buoni che Dio li ha salvati nei tre giorni di buio e Dio ha fatto per loro ha aperto il mare per loro ma vi figurate cosa vuol dire? un'altra apertura del male su misura per queste due persone erano Rishayim difficile dire che erano Rishayim erano persone che un po' non hanno ben capito forse chi era Dio e le Mitzvot ma amore per il prossimo fratellanza prendere botte per qualcun altro questo è quello che loro erano cari amici guardiamo prima di tutto la grandezza del Rebbe del nostro Rebbe del Rebbe del primo Rebbe del Balatania come loro vedono la verità di una cosa l'essenza l'anima pura di una persona anche se questa persona ha fatto le cose peggiori che abbiamo raccontato un tzaddik non è quello che punta il dito un tzaddik è quello che riesce a leggere la tua anima a capire in realtà cosa frulla dentro di te anche se fai le peggior cose un tzaddik ti difenderà sempre ovviamente se il tzaddik ti difende ovviamente anche Dio lo fa perché il tzaddik è il braccio lungo di Dio è l'estensione di Dio perciò se un tzaddik che è umano riesce a dire delle frate delle sentenze così positive su un assassino nel Betamigdash sicuramente Dio ha vede purezza la nostra purezza di ognuno di noi perciò Dio vede la nostra anima e questa è una cosa importante che il tzaddik vede sempre la nostra anima ma dobbiamo imparare cari amici a capire quanto ognuno di noi vale quanto non è mai tardi non è mai grave quello che io ho fatto perché se Datana Aviram si sono salvati allora ognuno di noi si può salvare se Miriam Bad Bilga dopo 2400 anni il Rebbe è riuscito a dire qualcosa di positivo su di lei e anche su quello che ha ucciso il profeta sicuramente noi nessuno di noi ha fatto cose gravi come hanno fatto loro sbagliamo pecchiamo ci dimentichiamo di Dio a volte ma dentro nessuno di noi nessuno di noi va contro Dio rinnega Dio semplicemente sbagliamo e vediamo quello che Dio tramite la boccadezza di chi mette in questo mondo impariamo a capire quanto in realtà siamo importanti per Dio e quanto noi valiamo possa Shem veramente accendere i nostri cuori aprire le nostre menti di tornare a Dio ma non soltanto con emozioni non soltanto col cuore non soltanto giovedì sera quando studiamo la Torah che da questa sera stessa ognuno di noi possa prendere se stesso in mano e dire basta non voglio essere distaccato da Dio io vedo come Dio mi ama come Dio mi apprezza allora anch'io devo fare un qualcosa qualcosa di pratico però da stasera in poi chiedo a tutti i presenti scegliete una mitzvah che finora magari non siete stati capaci di fare non avete voluto fare o quello che sia abbracciare Dio non è soltanto con i sentimenti ma è con i fatti Dio vuole noi vuole noi i nostri fatti le nostre mitzvot che ognuno di noi possa avere la forza di prendere un qualcosa e dire da stasera in poi io voglio migliorare me stesso per andare verso Hashem ancora in un modo più profondo e più integro Shabbat Shalom a tutti grazie e ogni bene per favore condividete la lezione sigla